Le eccellenze del patrimonio agroalimentare italiano sono una componente fondamentale dell'affermazione delle Made in Italy sui mercati globali e il sistema europeo delle indicazioni geografiche, DOP e IGP, ne rappresenta un potente strumento di promozione e tutela. Grazie alla distintività delle nostre produzioni d'Italia e prima in Europa per numero di marchi riconosciuti. Sono 838 DOP e IGP iscritte. L'Italia non produce cibo. L'Italia produce distintività, cultura e tradizione.